Il consigliere regionale capogruppo di Abruzzo in Comune, Sandro Mariani, rinnova l'appello fatto al presidente della provincia, Diego di Bonaventura, per convocare un tavolo provinciale per discutere una proposta unitaria di riorganizzazione della rete ospedaliera terramana e per programmare la sanità del futuro alla luce delle opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, una proposta su cui hanno già dato parere favorevole a partecipare diversi sindaci e amministratori del territorio. Sì, sto chiedendo ormai da giorni un tavolo, ho individuato nella figura del presidente della provincia, Diego di Bonaventura, colui che può e deve fare la convocazione per mettere attorno a un tavolo i sindaci, i consiglieri regionali tutti della provincia di Teramo, perché le partite che la nostra provincia dovrà giocare e deve giocare nelle prossime ore sono fondamentali e vitali. Parliamo di rete ospedaliera, parliamo della grande mobilitazione economica che il governo e l'Europa hanno messo in campo e quindi non possiamo e non dobbiamo farci trovare impreparati, ma avere una progettualità chiara, rappuntare su un progetto chiaro che tutti i rappresentanti della provincia di Teramo possono e devono sostenere per far comprendere che praticamente qui c'è una visione chiara, lucida e che praticamente finalmente un gruppo dirigente locale riesce a stabilire quali sono le priorità. Quindi un incontro che serve per fare squadra su un unico progetto? Sì, squadra su un unico progetto e non è tanto il discorso di doverci difendere, perché la difesa è un qualcosa che concettualmente a me non piace e non è mai piaciuto. È un incontro e deve essere un incontro teso a programmare e a dire quelle che sono le nostre priorità e poi a dare forza tutti insieme a queste priorità, perché in questo momento, torno a ripeterlo, in questa finestra temporale si giocano e si stanno giocando le partite più importanti.